Grazie alle nuove terapie oncologiche oggi disponibili, una malattia come il cancro al seno metastatico può arrivare se non alla completa guarigione e alla cronicizzazione. Si amplia così l'aspettativa di vita e per le pazienti si apre la possibilità di ritorno al lavoro. Un paziente con tumore metastatico può rientrare al lavoro e gode di un pacchetto di diritti che sono ispirati dalla concorrente esigenza di tutelare le condizioni di salute e consentire la partecipazione alla vita lavorativa e all'esercizio della propria professionalità. Il paziente con tumore metastatico che rientra al lavoro gode di diversi diritti. I diritti sono diversi ma in particolar modo quello più importante è il diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time nel caso in cui la patologia cronica sia una patologia degenerativa, cioè caratterizzata da un peggioramento progressivo e graduale per cui residui una ridotta capacità lavorativa, anche perfetto delle terapie salvavita come la chemioterapia e soprattutto sia accertata questa patologia e questa invalidità dalla commissione medica presso l'azienda sanitaria territorialmente competente. Al verificarsi di questi due requisiti la lavoratrice ha il diritto di chiedere la trasformazione del contratto di lavoro da full time a part time. Un secondo diritto laddove le condizioni di salute siano quelle previste dalla legge 104 del 1992 è rappresentato dalla concessione di permessi lavorativi. In particolare tre giorni di permesso mensile che possono essere frazionabili in ore e due ore al giorno una se l'orario è inferiore a sei ore. Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile con riduzione a capacità lavorativa superiore al 50% è poi possibile beneficiare anche in maniera non continuativa di un congedo per un periodo non superiore a 30 giorni nel corso dell'anno. Importanti anche sono i diritti sempre previsti dalla legge 104 alla adibizione alla sede di lavoro più vicina al luogo di residenza, così come il divieto di trasferimento e il divieto di adibizione al lavoro notturno. Approfondimenti sul tema sono disponibili sul sito e Tempo di Vita.